A quando ho scoperto che il mondo stava andando in malora? Vuoi la verità? Stavo facendo sesso con uno sconosciuto. Era così che mi guadagnavo da vivere. Eravamo in un alberghetto sulla 97, a sud di Fairwell. Erano le due del mattino, quando abbiamo sentito uno schianto all'esterno, poi un altro, e un altro ancora, e via così. Bam, 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 bam! Mi sono precipitata fuori e non volevo crederci. Un migliaio di persone, forse di più, avevano invaso l'autostrada, a piedi. Sembrava una specie di manifestazione di protesta, solo che erano come... impazziti. Attaccavano qualsiasi cosa si muovesse. Mi sono vestita in tutta fretta, ovviamente, e sono uscita dalla finestra del bagno. Non avevo mai provato tanta paura. Ma quello è stato solo l'inizio. Hai passato davvero momenti terribili, come tutti, del resto. Grazie a tutti.